Buongiorno e benvenuto a Pardo Live a Maurizio Canetta, direttore della RSI. Buongiorno a tutti evidentemente. Maurizio, allora, il rapporto tra la RSI o più in generale la ESRG SSR e il Festival di Locarno è importante. Ieri c'è stato il sigillo, diciamo così, del festeggiamento di questi 70 anni, ma è una lunga storia passo a passo fatto a fianco con la nostra televisione. È una storia logica, no? Perché è una grande manifestazione culturale in cui il cinema, il video è protagonista, evidentemente SSR e RSI non possono non esserci. Ci siamo in molte dimensioni, in una dimensione evidentemente di programma, abbiamo delle produzioni radiofoniche, televisive, web, social media, che coprono l'avvenimento Locarno non solo in termini cinematografici, ma c'è tutto il contorno. Sappiamo quello che gira attorno alla politica. In questi giorni c'era Cassis e c'era Modè, quindi è chiaro che diventa un elemento supplementare. È il racconto di un evento e di quello che ci sta dentro e attorno attraverso i programmi. Poi c'è la presenza tecnica e tecnologica, perché naturalmente per noi è anche un'occasione grande per mettere alla prova e mettere in azione i nostri mezzi non solo sui programmi, ma anche nelle collaborazioni tecniche e tecnologiche con il festival. Poi c'è l'elemento immagine e comunicazione, c'è l'elemento evidentemente anche partenariato, anche finanziario nei rapporti con Locarno. Dunque ci sono molti aspetti, c'è la rotonda da due anni nella quale ha investito molto il festival, investiamo molto anche noi, siamo due ore al giorno in diretta con Rete3, c'è questo Locarno Experience, questa fotografia un po' fuori dagli schemi, mi ha messo con un boa rosso di struzzo e un bello cilindro, che ho visto che è diventata quasi un obbligo, devo farla anch'io, i personaggi conosciuti ma anche tutti quelli che passano in rotonda. Quindi è un rapporto di grande interazione, diciamo sempre con Marco Solari quando ci si vede dopo il festival per il riscontro, quello che tutti chiamano debriefing, io lo chiamo riscontro perché resta un po' fautore della lingua italiana, diciamo sempre il cielo è azzurro e quindi non ci sono nubi e questo ci dà gioia e orgoglio. Hai già fatto, diciamo così, la sventagliata in generale? No, manca una cosa, evidentemente mancano i film che noi produciamo e coproduciamo. Quest'anno sono molto contento e orgoglioso perché la prima, quello che resterà nella storia, piccola o grande, proiezione al Palacinema, è stato Piazza Grande il documentario che Michel Bertrami e Michel Gioric hanno costruito sulla piazza e sul 70 anni di festival e l'ultima proiezione del festival il sabato 12 in Piazza Grande è Gotthard, che è una coproduzione RS Yamca, quindi ne siamo orgogliosi. L'incipit alla fine. Voglio proprio parlare del documentario di Michel Gioric e Michel Bertrami perché lì è evidente l'archivio RSI e l'archivio anche del festival, avendolo seguito in tempo diretto, e lì è bellissimo rivedere, come dire, tutte le varie fasi, si vedono anche i volti stessi della RSI che hanno raccontato il festival. Esatto, questo è anche il grande potere fascino dell'archivio. Noi siamo forti perché abbiamo la storia di questo paese, dunque anche del festival costruita attraverso i programmi. Naturalmente c'è, e questo mi è piaciuto nel documentario, in genere nei lavori sull'archivio, che hanno sempre più piede all'uso dell'archivio nel mondo del video, della tv, ma non solo, non è un'operazione nostalgia, è un'operazione di confronto presente e passato. Per me questo è decisivo, cioè che non ci sia questo aspetto come erano belli quei tempi, ma come erano quei tempi. E questo credo sia stato un elemento interessante. In più adesso al Palacinema, qui dove siamo, verrà trasferito l'archivio del festival, anche quello è un elemento di collaborazione futura possibile con il festival, proprio perché la somma di archivi fa la storia. Uno degli aspetti, come dicevi tu, di Piazza Grande, di quel documentario, era proprio che anche i singoli frammenti dell'archivio diventavano dei singoli personaggi assieme a quelli di oggi che gravitano intorno. Allora a questo punto rivolgo anche a te, non solo da testimone, ma tu il festival di Locarno l'hai vissuto con tanti modi, con tante funzioni. Quando parte la scintilla? La scintilla parte, come tanti in questo paese, da ragazzo quando veni a Locarno, perché c'è il festival, perché vedi film forti e importanti, perché vedi gli amici che non vedi tutto l'anno, soprattutto quando sei studente. Anche questo conta in un festival di questa natura. Poi professionalmente ho fatto l'inviato facendo servizi, ho prodotto la trasmissione quotidiana sul festival, ho presentato sul palco l'ultimo anno di Streife, due o tre anni della gestione Müller. Poi ho mollato il festival, se non da spettatore, quando ero capo dello sport. Poi ho fatto il capo della cultura, quindi bagno assoluto, poi il capo dell'informazione, quindi altro bagno, ora faccio il direttore, quindi altro bagno assoluto, ma con un difetto, io vedo pochissimi film, proprio perché c'è un mondo da curare, da gestire, da vivere, e questo mi toglie spazio per i film. Ma quando arriverà, tra un po', c'è tempo, la pensione recupererò tutto il tempo nella sala. Ma c'è ancora tempo. Ma in questa sfaccettatura vogliamo sollevare qualche aneddoto. Mi dicevi per esempio la premiazione in piazza è stata la prima volta in diretta televisiva. Sì, perché prima la premiazione si faceva in termini per i giornalisti, poi si è deciso di fare la premiazione in piazza, era l'ultimo anno di Streife, io fui chiamato a presentarla, producevo la trasmissione, la presentavo, mi hanno detto fai anche perché tu sai un po' le lingue, te la cavi in varie lingue. Allora, due cose piccole. La prima, il dramma delle lingue, perché ogni tanto tu hai lì degli ospiti, lì ero da solo. Quando c'era Müller era facile, perché lui dal cinese all'India antico tutto ti copriva. E ogni tanto qualche incomprensione di quello che dicono, sai, quando ti arrivano gli ospiti americani che sparano in slang, tu resti un po' così. E poi, ecco, quello è stato un grande momento proprio forte. Primo il mio di paura davanti a 5.000 persone, che è un respiro che ti senti addosso. E poi una standing ovation da almeno tre minuti, dovrei andare a guardare sul filmato per David Streif, che lasciava, non finiva più quell'applauso. E Streif era davvero commosso dentro. E lì c'era un respiro di tutta la piazza, nel dire grazie a questa persona, personaggio, che aveva portato grandi cambiamenti e rafforzamenti nell'identità del festival. Quello e poi il contagio della piazza, nel bene o anche nel male, quando passano... Sì, poi sai tu, io ho fatto un paio di premi, due o tre premiazioni, poi in una, nell'ultima credo che ho fatto, i fischi assoluti per certi premi, in cui devi essere, perché c'è lì il regista, e fischiato devi essere un po' mediatore fra gli umori della piazza, e comunque il riconoscimento della professione, professionalità di chi è lì. Continuo con i ricordi, scegli pure o film o personaggio, ma qualcosa che ti è rimasto incollato. Ma personaggio, fra i molti che ho intervistato o presentato sul palco, un bel colpo, Sam Fuller, il grande Onorosso, che era un americano molto cool, come sono loro, cioè questi personaggi di una grandezza, comunque intellettuale, di artigianale, ma che poi al grotto, quando vai prima, sono totalmente a tua disegno, ti ascoltano. Ecco, molti dei personaggi grandi che sono venuti qui, hai l'impressione che lo fanno perché devono e non c'è ascolto. Lui nella breve chiacchierata, poi non è che diventi amico, ma no, nella chiacchierata, ascoltava quel che gli dicevo quando mi chiediamo alla vostra telecomè, come lavorate, e questo mi ha dato, è stato bello, è stato un bel momento. un film, posso andare un po' sul personale? Ma certo. C'è stato un film, io avevo 17 anni, 16 anni, ero molto giovane, che si chiamava Rack Cancer, film visto sulla piazza, dovrei andare a recuperare anche l'anno, che raccontava la storia di un figlio che scopriva il tumore della madre, ci lottava, eccetera, e dopo lì ne abbiamo discusso con mio papà e mia mamma proprio sulle implicazioni, è eccessivo, sai quei discorsi che fanno, poi tre anni dopo purtroppo mi sono trovato nella condizione del protagonista del film, ecco, e lì aver rivisto delle scene che erano vissute nella realtà mi ha fatto dire, come spesso capita, quanto la letteratura e il cinema possono a volte purtroppo, a volte per fortuna, prevenire quel che succede nella vita e nel mondo ed essere degli elementi forti anche di ricordo ma a volte di lezione. Con questo bel ricordo toccante, noi ti ringraziamo Maurizio per aver condiviso questi ricordi, queste riflessioni per tutto il lavoro e tutta la collaborazione naturalmente con la RSI. No, volevo dirti una cosa perché c'è una bella iniziativa che mi piace molto che è Movie of My Life quest'anno e io ci ho messo dentro un pezzettino con tutta la famiglia perché l'ha girato mio figlio che si occupa di film making e abbiamo rifatto in casa con elementi casalinghi la scena di c'era una volta in America quando Noodle dice che hai fatto in questi trent'anni Noodle sono andato a letto presto. È anche bello ributtarsi in maniera artigianale dentro un momento di cinema che ti ha colpito. L'abbiamo ricostruito in casa con le fotografie di casa e con l'appendiabiti di casa. Ma penso che era questo anche lo spirito esatto dell'iniziativa. Grazie a voi grazie a te buon lavoro e buon festival. Grazie Maurizio Grazie a tutti.